Nella vostra tradizione, come considerate la morte e il mondo dell'aldilà, come vi rapportate con esso? Ok, la morte è normale, naturale. Quando nasciamo in questo mondo dobbiamo morire, è così per tutti, è naturale. Nessuno vive permanentemente in questo mondo, ogni cosa è impermanente, nulla è permanente in questo mondo. Anche le persone ricche, le persone ricche che vanno per esempio al dottore che vogliono essere più giovani, che non vogliono invecchiare, naturalmente è impossibile questo. Tutto è impermanenza, tutti devono andare alla morte un giorno. Ecco perché abbiamo tutto ciò che abbiamo in vita e dobbiamo sempre cercare con quello di aiutare le altre persone. Dobbiamo sempre cercare di essere buone persone e abbiamo bisogno di tanta fede, di credere tantissimo nel nostro Dio e dobbiamo pregare perché la nostra prossima vita sia una vita migliore. Nel buddismo si crede che ci siano diversi mondi, diversi universi, non solo uno, tantissimo, in diversi mondi, diversi nomi, diversi colori, però le sofferenze sono le stesse. Mi ringrazio. Grazie. Ok, muchas gracias. Ok. Grazie. Grazie.